Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è venerdì 5 settembre e nella diocesi di Avezzano si celebra l'anniversario della dedicazione della Chiesa con Cattedrale. Nella diocesi dell'Aquila si celebra invece la memoria di San Vittorino Martire. Se i controlli dovessero dimostrare che anche altri balconi in legno sono indeboliti dalle infiltrazioni d'acqua come quello crollato, allora dovremo considerare come soluzione quella di tagliare i balconi. Lo ha detto il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente sulla vicenda del crollo del balcone in legno dal secondo al primo piano in un alloggio antisismico di Cese di Preturo. Il parto non è una malattia ma un fatto naturale che improvvisamente può diventare patologico per la madre e per il bambino. Per questo i requisiti indispensabili per la sicurezza della sala parto e per l'assistenza del neonato sono la competenza, l'esperienza del personale, le attrezzature tecnologicamente adeguate e moderne, la possibilità di intervento rapido e risolutivo ed un'organizzazione efficiente e sicura. Lo dice Quirino Dinizio, segretario regionale della OGOI, Associazione Ostetrici e Ginecologi Italiani, riportando le linee guida nazionali sui punti nascita. Io sono contro gli insediamenti petroliferi lungo la costa, l'ho detto, l'ho ridetto, l'ho dimostrato, ho originato questi tentativi, ho presentato disegni di legge, non perché sono contro il petrolio ma perché lì non va bene. Lo ha affermato Giovanni Legnini che, a proposito del progetto Ombrina Mare, replicando alle accuse del Movimento 5 Stelle, lancia una provocazione per ribadire per l'ennesima volta la sua contrarietà. L'ho detto in tutti i modi, dice, ora farò un atto pubblico con Lotaio. Le indagini sull'attentato incendiario all'auto dell'Avvocato Roberto Verdecchia, Assessore Comunale all'Ambiente del Comune di Avezzano, sono coordinate dalla Procura della Repubblica e del Capoluogo Marsicano. Sul campo sono seguite dal Commissariato di Avezzano e dalla Digos della Questura dell'Aquila. Ma se i riscontri dovessero portare a reati di competenza antimafia, allora entrerebbe in scena la direzione distrettuale dell'Abruzzo. L'ipotesi non è esclusa. A Avezzano sono attese infatti decisioni importanti in questo comparto, soprattutto sugli impianti di smaltimento. Scambio di buone pratiche tra la Regione Friuli-Venezia-Giulia e la Provincia di Chieti sull'introduzione delle energie rinnovabili negli edifici pubblici. Il progetto, realizzato dalla Provincia di Chieti, ha coinvolto 104 comuni abruzzesi e ha ottenuto un finanziamento in misura del 75% dell'investimento a tasso agevolato che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dei sistemi di pubblica illuminazione per 80 milioni di euro in tutto. Diversi sindaci friulani hanno chiesto alla loro Regione di attuare la stessa esperienza. Entro l'autunno, a Pescara, saranno messi in sicurezza tutti i sottopassi. Con un atto di determina del dirigente del settore lavori pubblici del Comune è stato dato il via ad un sistema di controllo e avviso per il sottopasso ferroviario a Fontanelle. In caso di allagamento, il sistema chiude il sottopasso e con allarmi e display proibisce il transito dei veicoli. saranno posizionati due sensori di allagamento, una centralina di gestione, una batteria per le interruzioni di corrente elettrica, display per avvisare se il sottopasso è praticabile o no e illuminazione relativa. Il costo è di 12.800 euro. È stato approvato dalla Giunta Comunale di Pescara ieri il completamento dei lavori di riqualificazione del mercato di Piazza Muzzi. Il progetto costerà 250.000 euro. Sono previsti manutenzione straordinaria dall'ingresso lato nord-est con nuove gradinate e ringhiere di protezione, impianto di condizionamento, cancellate per evitare che nelle ore notturne gli ingressi divengano bivacchi, risanamento del piano interrato, ascensori, banner per la comunicazione visiva, completamento uffici, schermature. Il progetto diventerà operativo appena definite le procedure per l'appalto. È stato approvato all'unanimità, cioè col voto di tutti i consiglieri del Consiglio Comunale di Pescara, l'ordine del giorno sulla sede della Corte d'Appello nel capoluogo adriatico, presentato dal gruppo di Forza Italia e modificato su proposta del consigliere comunale del Partito Democratico, Francesco Pagnanelli. Il Consiglio Comunale chiede che vengano assunte tutte le iniziative legislative da parte dei parlamentari abruzzesi per far nascere la nuova sede di Corte d'Appello a Pescara, alla luce del nuovo sistema dei limiti della competenza territoriale che verrà delineato con la riforma della giustizia che sta venendo esaminata in Parlamento. E continua a Pescara la polemica sulle tasse. Il centrodestra accusa l'amministrazione di non aver voluto operare i tagli necessari per evitare la stangata e critica insieme al Movimento 5 Stelle il presidente del Consiglio Comunale Blasioli per aver, dice il centrodestra, impedito la discussione su emendamenti non presentati dalla maggioranza. Ma secondo il centrodestra ci sarà ora la partita del regolamento comunale per le varie imposte senza il quale le nuove aliquote su IMU, Tasi e Tari non potranno essere applicate. Ed è polemica a Pescara anche sulla bonifica di Fosso Grande e Fosso Vallelunga. I consiglieri comunali del PD, Piero Giampietro e Fabrizio Perfetto, accusano il centrodestra che ha amministrato per cinque anni Regione, Provincia e Comune di Pescara di aver lasciato i pescaresi nella confusione sulle reali competenze circa la bonifica dei due siti. I due consiglieri si sono attivati col vice sindaco del Vecchio per individuare la strada più breve per dare risposte sul tema. Oggi ci sarà un sopralluogo della Commissione Ambiente per vedere da vicino la situazione. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, respinge al mittente le accuse sullo staff e ribatte. Tutto in regola. Le premonizioni dell'ex primo cittadino Attiglio di Mattia, chiuse in busta il 16 luglio scorso, si sono rivelate esatte. Giusti tre nomi su quattro dei collaboratori scelti da Maragno, che aveva indetto una selezione pubblica per individuare le persone più idonee. Ma il sindaco di centrodestra respinge le accuse e ricorda che sull'avviso pubblico era scritto a chiare lettere che la selezione dello staff è ad assoluta discrezione del sindaco stesso. Torna la Coppa Ugo Barone, svolte di popoli, classica, con autostoriche, che percorrono i tornanti delle svolte di popoli su suggestivi percorsi delle aree interne dell'Abruzzo. L'iniziativa, la quarta edizione, si terrà sabato e domenica, organizzata da Gentleman Drivers ASD e dal club Pescara Corse Vetron Car, con auto antiche aquilane e vasto veicoli storici, prevede prove di regolarità e concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture da competizione. Oggi la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Mario di Luzio. Siamo così alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono piogge schiarite, con temperature da 21 a 24 gradi e venti moderati. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, una tascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci.